Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele, e se non mi conosci parlo di dropshipping e finanza personale. Oggi voglio parlare con te di quale carta e conto corrente è meglio per il dropshipping. Ultimamente, specialmente nei gruppi Facebook, vedo una grande richiesta, tanti dubbi sulle carte di pagamento e sui conti correnti per il dropshipping, quale carta sia migliore e quale conto corrente sia migliore. Soprattutto vedo che la maggior parte delle persone si orientano sul conto N96 oppure Revolut, chiedendo quale dei due va meglio per questo tipo di business model. Oggi voglio parlare con te delle differenze tra queste due carte di pagamento, N96 e Revolut, e su quale secondo me sia migliore e quale è l'alternativa migliore a entrambe. Quindi resta fino alla fine del video perché ti dirò quale altra carta di pagamento secondo me è meglio di tutte e due per fare dropshipping. Innanzitutto, per capire le differenze tra N96 e Revolut, dobbiamo capire che N96 è una banca estera con sede in Germania, invece Revolut è un istituto di moneta elettronica con licenza rilasciata nel Regno Unito. Quindi Revolut non è una banca. N96, quindi ti offre una protezione bancaria sul tuo capitale, Revolut non lo fa. Oltretutto, N96 difficilmente ti congelerà il conto per verifiche o ti priverà il tuo denaro, Revolut invece è più probabile che ti congela il denaro per delle verifiche, come fa un po' Paypal. Queste sono due differenze definitive sulla scelta, ma ci sono anche altre differenze che vanno a favore di Revolut. Per esempio, se operi in moneta estera, Revolut ti dà la possibilità di ricevere e inviare pagamenti in qualsiasi valuta, mi sembra che ci sono più di 152 valute disponibili, e di creare diversi conti correnti con diversi IBAN dedicati all'interno dell'app. Per esempio, se io ho due negozi, posso creare due conti correnti direttamente dentro Revolut e differenziarli per ricevere e inviare pagamenti. Attenzione, questo è riferito a Revolut Business, non Revolut Personale. Se devi usare Revolut Personale, te lo sconsiglio perché per termini e condizioni lo puoi usare per fini commerciali ed è probabile che riceverai un blocco del conto. Invece N96 non dà valute estere e soprattutto chiede commissioni per valute estere, quindi se operi in valuta estera potresti optare per Revolut. Non consiglio di lasciare tanti soldi su Revolut poiché non essendo una banca non ha nessun tipo di assicurazione e soprattutto può congelarti fondi per revisione e per verifiche. Queste sono le due differenze sostanziali. Io uso Revolut anche da molto tempo, non ho mai avuto problemi, però conosco persone che hanno avuto problemi. D'altronde devi considerare anche il tuo business model e informarti e chiedere consulenza a un esperto di processore di pagamento che conosce Revolut per valutare se il tuo business model può causare problemi di compatibilità con Revolut perché devi sapere che ogni processore di pagamento può accettare o non accettare il tuo tipo di business model in base a livello di rischio secondo loro che tu puoi riportare. Detto questo ragazzi andiamo immediatamente a vedere quale opzione secondo me è meglio tra queste due e cosa ti consiglio oltre queste due. Allora innanzitutto se operi in valuta estera, per esempio dollari o pound o qualsiasi altra valuta, ti consiglio Revolut, ma ti consiglio di dividere il volume di vendite di soldi tramite diversi altri istituti simili come per esempio TransferWise in modo da non fare tutti i volume su Revolut e non allettarlo, ovviamente se usi Revolut Business. Se invece operi in euro, ti consiglio tra queste due N96 poiché è una banca reale. Poi non so perché tutti quanti chiedono di N96 con tutte le opzioni che ci sono in Italia, se il problema è che volete una banca estera ci sono tante altre opzioni, magari ne farò un video dedicato. Invece se operate in euro e pagate i fornitori in euro, io vi consiglio un'altra cosa. Vi consiglio di utilizzare un conto corrente classico italiano con una carta di credito che offre cashback. Per chi non lo sai, cashback significa ritorno indietro di denaro sugli acquisti che fai. Ad esempio ci sono carte che ti offrono l'1-2% su ogni acquisto che fai, significa che a fine anno ti tornerà una cifra. Ovviamente se tu lavori in dropshipping, fai molti acquisti, fai molto volume, non ha senso utilizzare una carta come Revolut, ma ha più senso utilizzare un conto corrente con una carta di credito che offre cashback in modo da aumentare il tuo margine di guadagno e soprattutto essere più competitivo con le altre persone, contro quei concorrenti. Ad esempio, quello che utilizzo io è American Express, ci sono diverse carte con diverse opzioni, carte che ti danno punti e carte che ti danno un cashback in denaro. Ne ho parlato nel mio primo video del canale, che ti lascio in descrizione così te lo puoi andare a vedere. Ci sono promozioni che ti possono dare fino al 4% di cashback indietro, quindi vuol dire che se fai un volume teorico di 10.000€ a mese, che è dove hai un margine di 2.000€ di guadagno, con il cashback, ipotizzando che tu acquisti 8.000€ di merce, con il cashback al 4% potresti fare più o meno altri 300€ a mese in più, che male non sono, semplicemente utilizzando il metodo di pagamento corretto. Se ti vuoi istrivere ad American Express per chiedere una carta di credito, ti lascio le varie carte e i link dove istriverti in descrizione, così ti puoi guardare i benefici. Questo oltretutto ti dà un sacco di benefici, perché utilizzare una carta di credito, oltre a darti un margine con il cashback o l'eventuale cashback, ti dà la protezione acquisti e ti dà una protezione che invece Revolute o N96 con la carta prepagata o con il banco a matto normale non ti offrono. Quindi ti consiglio di valutare bene ciò che devi fare. Ovviamente se fai acquisti per esempio in dollari o acquisti in pound, la carta di credito italiana non va più bene perché dovresti pagare la commissione di cambio su valuta estera. In quel caso o ti procuri una carta di credito estera, molto difficile se sei esidente in Italia, oppure valuti processori di pagamento come Revolute, come TransferWise e altri ancora per non pagare le commissioni di cambio. ovviamente non avrai cashback, ma cosa che poche persone sanno, ci sono decine di modi per aumentare i margini di profitto con i cashback, ci sono siti dedicati che ti danno la possibilità di cashback, per esempio da AliExpress, da Amazon, da eBay e da tanti altri posti, ci sono posti dove comprare buoni regalo scontati per alcuni siti come AliExpress che ti fanno aumentare notevolmente in margine, perché ricorda che ogni 1% che tu puoi risparmiare sull'acquisto è l'1% di competitività che puoi avere maggiormente presso i tuoi concorrenti, presso le altre persone che fanno dropshipping del tuo stesso prodotto, oltre ovviamente a aumentare le tue possibilità di guadagno. Quindi in sostanza ragazzi, tra N96 e Revolut secondo me non ha senso paragonarli, ha più senso valutare il proprio business model, la propria valuta di lavoro, cosa si cerca da un processore di pagamento? Vi consiglio in ogni caso, se non conoscete il processore di pagamento, per evitare di restare con i fondi congelati, per esempio con Paypal, con Revolut, con TransferWise, di parlare con una persona esperta di processore di pagamento, se volete contattarmi, volete contattare su Instagram, su Facebook o nei commenti, ovviamente potrete contattare chiunque altro, ma valutate bene e assicuratevi di avere sempre la documentazione necessaria per passare le verifiche, perché se no vi potrete trovare in situazione con i fondi congelati per molto tempo, ad esempio Revolut in caso di verifiche può non rispondervi e può tenervi i fondi congelati anche per un paio di mesi. Ovviamente questo è un problema per tutti, perché va a mancare il cash flow, oltre ovviamente allo stress psicologico. Spero di aver chiarito qualche dubbio in questo video, resto ragazzi sempre a disposizione, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video e non perdervi nessuna novità, risponderò sempre ai dubbi che trovo sia su Facebook e sia in generale su Dropshipping e sull'e-commerce. Ragazzi, vi saluto, ciao e una buona giornata.